Con i giochi antichi per bambini si è aperta oggi l'edizione 2015 del Palio della Botte. Domani il Palio dei Bambini, il Clu, mercoledì con il corteo storico e il Palio degli adulti. Oggi i bambini giocheranno finalmente a quei vecchi giochi che si facevano una volta, come il tiro della fune, come i birilli con la palla, palla avvelenata, la palla di pezza, la fionda. Ci sarà una catapulta che abbiamo fatto noi con le nostre manine. Organizzatori indaffaratissimi per preparare le botti, vestire i bambini. C'è alle spalle un lavoro non indifferente? Tutti i volontari, tutte persone che lo fanno semplicemente per spirito di comunità, per stare insieme. Ovviamente c'è un lavoro non indifferente dal mettere a posto le gratinate, a preparare le botti che vanno comunque annaffiate, altrimenti si spaccano, devono essere bagnate, alle carrozze, ai costumi, i bambini da preparare che devono fare i bottaioli, quindi hanno bisogno di un po' di allenamento. C'è un bel mesetto dietro di lavoro. Di contorno il lavoro delle associazioni di volontariato, gli stand di Libera e quelli del mercato Eco e Solidale. Questo è già il secondo o terzo anno che stiamo insieme alla Paglia della Botte. I nostri prodotti sono quelli di Libera, i prodotti del commercio Eco e Solidale, i laboratori artigianali che sono con noi in tutte le occasioni. E poi la memoria storica di questo palio, di chi negli anni lo ha visto cambiare? È necessario che si mantenga la tradizione, quello è, perché da parecchi a parecchi anni non si faceva. Poi si è ripresa di nuovo, in collaborazione con i preti, un po' col comune, finalmente si è ripresa questa pezza della Botte. Sullo sfondo la volontà di rianimare Corso Umberto I e un po' tutto il centro storico negli ultimi mesi in grave difficoltà per i tanti cantieri aperti e i tanti negozi costretti a chiudere. Io sono nuovissima del posto, ho aperto da soli quattro mesi e quindi per me è un punto interrogativo. Sono rimasti tre, quattro negozi, cerchiamo in questo modo di farlo rivivere e speriamo che effettivamente vada bene.